Roi ha intrapreso con l'industria 4.0 un progetto molto ambizioso e grande complessità e quindi ha cercato un partner con una copertura della soluzione molto ampia e con una grande esperienza nel mondo dell'automazione e delle soluzioni per la fabbrica elettronica. Siemens è sicuramente un'azienda che rappresenta nel mondo l'ingegneria, rappresenta nel mondo l'automazione, rappresenta nel mondo le soluzioni software per la progettazione. Il portafoglio di soluzioni Siemens è veramente molto ampio e all'interno di questo portafoglio abbiamo potuto ritagliare le soluzioni e i prodotti più adatti al progetto Roi. Il concetto Digital Twin è proprio il fondamento di un progetto di digitalizzazione dell'industria elettronica come quello che Roi sta portando avanti. Per poter operare in maniera efficace, efficiente e veloce è fondamentale avere a disposizione i dati digitali di tutte le fasi del processo dalla progettazione alla parte di design for manufacturing alla parte di esecuzione della produzione stessa. E' quindi proprio il Digital Twin la tecnologia abilitante per riuscire a gestire un progetto Industria 4.0. Roi con questo progetto si dota di un'infrastruttura le cui potenzialità non sono ancora completamente esplorate. Nei prossimi anni questo progetto maturerà ulteriormente le sue possibilità rendendo disponibili a Roi tecnologie che al momento sono ancora quasi futuribili. Per esempio, avendo un modello digitale di tutta la produzione sarà possibile applicare tecnologie di machine learning che daranno sicuramente un grande vantaggio competitivo all'azienda. Cadlog ha una grande esperienza in progetti di realizzazione di soluzioni complete per l'automazione della fabbrica elettronica. I progetti sono sempre molto complessi perché vanno a toccare proprio l'essenza dell'azienda. Cioè andiamo a digitalizzare i processi principali di produzione dell'azienda. E' una tecnologia pervasiva che rappresenta l'ossatura della soluzione. Quindi è chiaro che un'azienda che decide di digitalizzare i processi vede questa soluzione come un'opportunità e anche un rischio perché se la soluzione non è efficace, l'azienda non è efficace. Adottare le soluzioni Siemens per l'Electronic Manufacturing da oggi ha un'azienda notevoli vantaggi. Il primo sicuramente è il fatto di avere a disposizione un portafoglio di prodotti estremamente ampio. Con le soluzioni Siemens si coprono tutti i processi a partire dalle fasi di progettazione fino alla fase finale di packaging e spedizione dei materiali. Questo vuol dire per un'azienda avere la possibilità di far crescere la soluzione in base alle proprie esigenze. L'altro punto estremamente importante è il fatto che questa soluzione è la soluzione leader e ci sono già moltissime implementazioni moltissime soluzioni sul campo che hanno dimostrato la validità della soluzione. La fase più delicata dell'implementazione del progetto 4.0 probabilmente è la creazione delle interfacce con gli altri sistemi sia con i sistemi aziendali e anche e soprattutto con lo shop floor quindi con le macchine che eseguono effettivamente la produzione. Questo è anche un punto di forza della nostra soluzione perché è basata su una infrastruttura di industrial IoT che permette di comunicare con le macchine utilizzando un protocollo che è stato definito come public standard. Sicuramente il fatto di mettere in comunicazione macchine e sistemi diversi è una sfida per l'implementazione. Cadlog è un'azienda con una situazione veramente unica oggi nel panorama dell'elettronica italiana e direi anche europea. Infatti Cadlog fornisce oggi soluzioni sia per la parte progettazione che per la parte manufacturing. Non conosco altre aziende che abbiano una competenza così distribuita dalla fase di ideazione del progetto fino alla fase di realizzazione come Cadlog. Questo è sicuramente un grande vantaggio per un'azienda che vuole realizzare una soluzione end-to-end. Grazie a tutti.